La notte di Natale, la cena della vigilia, tra poco avrò a cena tutti quanti al completo, i miei figli, i miei nipoti, i miei cari, la mia famiglia che splendore, quanto affetto fanno sentire alla loro vecchia nonna e quanto ho da imparare da loro. Claudio, il mio nipote più grande, non mangia carne, non mangia pesce, non mangia formaggio, non mangia uova, non mangia No nonna, neanche il pollo. È vegano da più di 5 anni. Fabrizio, suo fratello, due Natali fa ci ha portato la sua ragazzetta, l'anno scorso il suo ragazzetto e dice che gli piacciono sia gli uomini che le donne, dice che è liquido. Gender fluid nonna, si dice così, ti ricordi? Fluido, il loro papà, il mio primogenito Roberto e la luce dei miei occhi, ma è stemio da sempre. Mamma, ho capito che lo fa zia a sto vino, ma non bevo, non bevo! Lei è la piccola Anna, la mia ultima nipote. Si è fissata con una certa Greta Tuber ed ora è attentissima all'ambiente. Amore, guarda nonna che ti ha preso. Si è messa a piangere per una cannuccia di plastica! Sua madre, mia figlia Laura, è buddista. Quest'anno potremmo evitare il bambinello perché proprio non mi rappresenta. Ma allora perché viene a festeggiare il Natale? Laura è divorziata da tempo e ora sta con questo ragazzetto Luca. Dice che sta sempre a dieta e che è ceriolaco, celiaco e vabbè una cosa del genere. Mamma, come sai Luca è un cantante neoceliaco, quindi non mangia pane, non mangia pasta e non mangia pizza e non beve neanche la birra. Ma manco il pollo come Claudio? Amore, il pollo, il pollo, il pollo le piace tantissimo. Ah, lui il pollo lo mangia. Quest'anno li ho voluti riunire tutti a casa mia per dire loro una cosa. Mandatevela più a tutti quanti. Questo è quello che avrei voluto dire. La realtà è che quest'anno ho deciso di accontentarli tutti. Mamma, ma che è questo freddo? Scusami, non è mai stata così spoglia per una festa. Ma non hai fatto l'albero? Scusa, non lo sai che Anna è contraria alla deforestazione? Ho capito, ma poteva fare dei plastiche. Ma che sei impazzito? Cioè, ma a questo punto allora accendiamo il riscaldamento, tanto il mondo va a rotoli. Ma io non vedo gli altri regali, io ho portato dei pensierini. Quest'anno con Anna abbiamo deciso di regalarci alberi piantati in Guatemala. Niente Babbo Natale per noi. Che poi, se vogliamo, Babbo Natale è un concetto così sessista. Babbo Natale, sessista? Sì, ti sembra giusto che la persona che consegna in giro per il mondo gioia, doni e letizia debba essere un maschio? Io proporrei di chiamarlo genitore Natale. Ma invece, guarda, io proporrei di non chiamarlo proprio perché Natale è una festa cristiana, siamo in un paese laico. Quindi, se per favore... È vero, è vero, effettivamente hai ragione, non hai tutti i torti. Allora, a questo punto direi di chiamarlo genitore... festa. Grazie a tut. Tut? Sì, tut, con l'asterisco. Quello è il cancelletto. Vabbè, non è colpa mia se il lingua italiana ha un grammatic così discriminatori. Ma come cazzo parla questo? Ma che cazzo ne so. Vabbè, nonna, che ci hai cucinato? Per antipasto vi ho preparato del tofu al naturale. C'è proprio il tofu. Tra tutte le cose vegane che potevi fare è proprio il tofu. L'unica che mi fa schifo. Potevi farlo affumicato oppure potevi fare del sedam. Il sedam per me è veleno. Per chi scusa? Perché è pieno di glutine. Io sarei pure celiaco, scusate. E che cazzo? Cazzo può pure troncarlo, sempre maschile rimane. Vero. Mamma, scusami, io capisco il risparmio energetico, però la tristezza di questo neon, no? Che ne so, potevi accendere due candele così magari ci riscaldavamo anche un po'. Ma le candele con la cera d'api, lo sappiamo che le api si stanno estinguendo dal pianeta? Lo sappiamo quanto sono importanti le api per l'ecosistema? Vabbè, apriamo un bottiglio di vin? No, stasera solo acqua, così il tuo papà è contento. Brava, brava mamma. Allora forza, brinderemo tutti insieme con un bel... No, no, con un bel bicchiere di... Di plastica? Vetro, vetro, ma che plastica? Vetro, pieno d'acqua. Bene, cari miei, iniziamo questa cena a base di tofu, di acqua, al lume di questo ecologissimo neon, scaldandoci unicamente con i nostri cuori, senza scambiarci doni sotto un albero che non c'è, augurandoci buon fest. Ho capito, ma io non posso brindare con un bicchiere di vino perché mio padre non beve. Ma senti chi parla, se lo mangi il tofu che sta pure nei cartoni, sai? Cartoni riciclati, spero. Oh, ma che palla, con sto Kret Thunberg. Oh, ma l'ho capito, ma è dove parlare con sto codice tutta la cena, amore? Ma dove hai portato la gabbia di matti qua? Esatto, sì. Ma c'è lì con fame, per te è solo pane. Ma senti chi parla... Sì, te lo mangiate il tofu, non vedi che... Ho deciso di accontentarmi tutti. Ho deciso di accontentarmi tutti. Ho deciso di accontentarmi tutti. Ho deciso di accontrarsi, illuminata da stupende candele. Mi sono gustata un tradizionalissimo cenone natalizio a base di salmone affumicato, lasagne napoletane con ragù di pesce, baccalà, pandoro. Il tutto innaffiato con dell'ottimo vino in compagnia di lui. Il mio nuovo toy boy è vegano, celiaco, buddista, ecologista e astemio. Ma se fai i cazzi suoi? Questo Natale fatevi i cazzi vostri. Conferenza di Giulia Allora Allora Grazie a tutti.